ragazzi siamo qui siamo qui e oggi possiamo finalmente dai finalmente commentare una bella vittoria della juventus e per farlo voglio andare più nello specifico più nel dettaglio più in analisi perché per un motivo perché abbiamo un match report che parla chiaro e che ci fa dire questa è stata una vittoria rotonda e convincente poi ne parleremo anche con le pagelle che usciranno oggi pomeriggio e quindi vi chiedo di lasciare un like a questo video per preparare al meglio anche le pagelle se siete impazienti di vederle mi piace subito via pronti via e vi dico che questa settimana la utilizzeremo per dei recap dei resoconti di quella che è stata la juventus fino a questo appunto in stagione cercheremo di fare tutti i ragionamenti possibili immaginabili cercando di essere sempre come al solito più obiettivi oggettivi possibile invece oggi parliamo ancora di grazia perché è giusto così in un momento in cui c'è ancora la partita fresca facciamo così ma ovviamente cambiamo subito la schermata e andiamo a ragionare su quella che la partita vi dicevo prima con il match report ovviamente come al solito di soccerman che conoscete già tutti perfettamente lo trovate qui sotto in descrizione il link per accedere alla piattaforma gratuita completamente gratuita di soccerman per quanto riguarda i principali campionati poi se qualcuno ha bisogno di avere più accessi c'è la possibilità di acquistare dei blocchi aggiuntivi di campionati ma soprattutto xid parastinco intelligente di cui parlerò nelle prossime settimane nelle partite di youtuber league dato che juve l'asso non è stata soltanto l'ultima partita dell'anno della serie a ma anche la finale d'andata di youtuber league che avremo vinto avremo perso non l'avremo giocata poi ne parliamo sabato quando uscirà il video di federico marconi e allora direi di andare subito ad analizzare i dati di juventus lazio perché allegri decide di lasciare il possesso agli avversari e concentrarsi sul recupero per poi ripartire la juve in queste condizioni qui si esalta nella partita di ieri si sono visti tantissimi cambi di gioco e questo ha favorito la discesa sull'esterno perché perché l'alazio è una squadra forte in mezzo dentro al campo con centrocampisti di qualità melinkovic savage che è la principale arma e quindi noi abbiamo bloccato in mezzo la discesa della lazio e abbiamo cercato poi in un secondo momento di allargare il gioco di andare sugli esterni questa cosa è stata molto furba molto intelligente ed è stata un po la chiave di svolta della partita ti importa io grosse occasioni degli ospiti non ne ricordo se non al 92esimo partito ormai conclusa dove hanno due occasioni forse un po di orgoglio molto d'orgoglio nulla più non lo so scegliete voi vero finto dei servi mi interessa è il sesto clean sheet di fila sei vittorie sei clean sheet è tanta tanta roba non è da sottovalutare juve che è la migliore difesa del campionato juve che ha il terzo posto in classifica juve che da sei partite non prende gol la juve oggi merita la vittoria e gli elogi niente di più il 3-0 forse eccessivo per la mole di gioco creata boh sì forse sì gli xg parlano di 1.56 della juve quindi magari un paio di gol giusti il terzo un po eccessivo non me ne frega niente comunque mi prendo questo risultato rotondo e me lo porto a casa e ne sono lieto perché comunque nel complesso la juventus ha strameritato di vincere questa gara finalizzazione juve lascio come al solito questo è il mio grafico preferito oggi c'è una perla di cui abbiamo già parlato ieri sera voglio analizzarle insieme a voi perché dal 1-0 al 2-0 e dal 2-0 al 3-0 non c'è stata una modifica nel piano di gioco della squadra l'obiettivo è sempre stato quello non si è mai cambiato non si è smesso di giocare o di attaccare la porta avversaria non ci si è accontentati non ci si è fermati questa è una cosa super positiva che quest'anno veramente è un atteggiamento che è mancato troppe volte fino a qui poi questo è il grafico degli expected goal cumulativi penso proprio che sia abbastanza evidente come la juventus abbia meritato meritato questa vittoria ancora una volta voglio evidenziare la differenza tra primo e secondo tempo perché è evidente questa juventus è un diesel partiamo piano e poi sul lungo veniamo fuori sicuramente meglio nei secondi tempi ci trasformiamo nei secondi tempi ieri però bene anche la prima frazione perché se penso al primo tempo con l'inter per dire non sono soddisfatto invece un secondo tempo di grande livello invece ieri meritatamente in vantaggio anche nel primo dopo un gran gol di ken devo dire verità forma fisica ritrovata perché ragazzi andava meno di quegli altri sempre e adesso invece andiamo come gli altri a tratte andiamo più forte soprattutto arriviamo prima sulle secondo palle andiamo sui contrasti andiamo sui teckel se vinciamo i rimpalli è perché ce lo meritiamo in questo momento non ci sta più piovendo la roba addosso quindi in campo una crescita fisica è evidente e una trasformazione di secondo tempi ormai è banale è scontata è così e lo dicono i numeri lo dicono i dati lo dicono le sensazioni le percezioni di quando si guarda la partita il modulo lo ha spoilerato rabbio a fine primo tempo chi era in live su twitch insieme a me ricorderà che a fine primo tempo infatti abbiamo cercato tramite la lavagna tattica di capirne un po di più ed effettivamente avevamo notato fagioli un po più alto rispetto ai due centrocampisti quasi a formare una sorta di 3 4 2 1 quindi con fagioli e ken dietro a milic perché locatelli e rabbio davanti alla difesa perché rabbio sul centro sinistra era in grado di mangiarsi tra virgolette milinkovic savic era questo il piano cercare di creare una specie di gabbia per milinkovic savic dove rabbio era il detentore delle chiavi diciamo così e rabbio c'è ancora in tasca e milinkovic savic lo vedremo poi nelle pagelle il 3 4 2 1 funzionata alla grande fan fact perché guardate no la dimensione del pallino con il numero 18 di ken ha toccato pochissimi palloni ha fatto pochissimi passaggi è stato fuori dalla manovra complessiva di gioco eppure ha fatto doppietta e poteva rischiare addirittura di portarsi a casa il pallone quindi veramente rapace d'aria di rigori passatemi il paragone non per il tipo di giocatore non per il livello ma è come treseghe treseghe era veramente spesso assente dal gioco e poi lo vedevi perché magari al primo pallone faceva gol un po come mauricarti quindi moise ken leggermente decentrato sul centro sinistra ha fatto una prestazione da rapace pochi palloni toccati due palloni infilati e potevano essere anche di più prima occasione della juve proprio dove ken poteva poi fare gol costi ci serve ken in verticale e guardate ken come bravo a rimanere in gioco e attaccare lo spazio dalla lazio il 17 quindi kostic che fa parte in razione accompagna la ripartenza quindi abbiamo due giocatori che partono larghi a sinistra e questa cosa mette in difficoltà la difesa della lazio perché poi l'esterno si ritrova un 2 contro 1 che poi decide di tirare c'era anche la possibilità di servire milica all'interno dell'area di rigore ma comunque non era facile in nessun caso buona occasione della juve nata dal niente e dopo cinque minuti questo è il duello dei duelli di cui parlavo prima rabbio contro savice non solo in campo ma anche sul mercato e ne parleremo ieri sera invece lo scontro è stato stravinto dal francese recupero palla e subito in verticale per ken è il secondo gol consecutivo che nasce da questo asse rabbio e moise ken che significa che sta funzionando che c'è qualcosa c'è un'intesa c'è qualcosa di più gol di moise ken lazio costretta a scappare all'indietro perché stava salendo e quindi per forza di cose c'è questo break di rabbio e questo lancio rapido che ha completamente annullato la superiorità numerica degli ospiti guardate qua juve tutta di là con ken che rimane avanti stavamo difendendo l'alastio che stava salendo ha la superiorità numerica sono quasi cinque giocatori dell'alastio in questo frame eppure facciamo al noi proprio perché loro stavano salendo abbiamo breccato a centro campo e abbiamo lanciato in velocità nello spazio poi ken è geniale nel pallonetto tecnicamente veramente perfetto col portiere prove del che esce e ci lascia la possibilità di segnare il gol dell'1 a 0 ancora gol di ken ma voglio evidenziare un attimino il prima perché questo pallone lo recupera milic vi ho messo la freccettina gran lotta lottatore il manzukic di massimiliano allegri è milic molto bene poi locatelli con l'apertura di prima intenzione per costic che ha una prateria davanti letteralmente quindi l'asse come vi dicevo prima forte in mezzo al campo la juventus fa densità centrale per sfruttare gli esterni sull'esterno c'è la prateria arriva costic tira prove da respinge tap in del numero 18 moise ken rapace da area di rigore quindi preparata bene da massimiliano allegri questo è un piccolo spoiler delle pagelle ma era abbastanza evidente anche senza dovervelo dire poi c'è il gol di milic che è il gol del 3 a 0 con chiese di maria che imitano passatemi il termine i linghe fagioli contro il lecce nel senso che ancora una volta un buon movimento senza palla noi solitamente i movimenti senza palla non li facciamo milic al centro dell'area lo vedete marcatissimo pieno di avversari e riesce a insaccare nonostante la superiorità numerica la nostra inferiorità la loro superiorità perché la last ormai aveva capito di averla persa sta partita probabilmente aveva un po mollato si era fatta sorprendere la linea difensiva a 4 di sari da questo taglio di chiese questo servizio di di maria la palla passa in qualche modo loro non sono proprio bravi nel difendere ma milic è bravo nell'insaccare un pallone perfetto basso sul dischetto di chiesa che ricorda un po il pallone di miretti per chiudere la partita con lo spezia con ancora una volta il gol di milic quindi bella costruzione dei due neo entrati come al solito le immagini provengono dal canale youtube di the zone italia quindi le trovate anche voi negli highlights e invece i dati sono di soccerment link in descrizione e come prima vi dicevo un mi piace perché poi questa sera escono anche le pagelle di juvelazio e sono veramente felice di poter analizzare una partita tranquilla una partita in cui la juventus ha vinto ha meritato ha creato ha dimostrato e soprattutto conquistato tre punti molto importanti ai fini della classifica e questa sicuramente è una bellissima notizia e ce la portiamo stretta perché la prossima volta che vedremo la juve sarà nel 2023